Empatia, mediazione, lentezza, bellezza, perdono, rispetto, resilienza e ascolto. Sono le otto parole chiave del passaporto essere umani, sorta di lascia passare per promuovere la cultura della mediazione, dell'inclusione e della gentilezza tra le giovani generazioni, distribuito negli istituti scolastici piemontesi e nelle sedi degli uffici per le relazioni con il pubblico regionali dislocate nelle otto province del Piemonte. All'iniziativa ha aderito la garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, Ilenia Serra. È un libretto che promuove una cultura tesa alla mediazione, al rispetto verso l'altro, all'ascolto e all'empatia e lo fa in un modo molto diretto e creativo utilizzando otto parole magiche, se vogliamo chiamarle così, che i ragazzi possono utilizzare nelle loro sfide quotidiane, non soltanto fino al raggiungimento della maggior età, ma anche oltre nella vita adulta. Realizzato dall'ente Essere Umani, Il Passaporto propone e illustra gli otto ingredienti magici in grado di costruire ponti e abbattere i muri che dividono le persone, accompagnati dalle parole di testimoni d'eccezione del mondo e della storia. Da Peppino Impastato a Pablo Picasso, da William Shakespeare a Michael Jordan, da Papa Francesco a Nelson Mandela. L'iniziativa del Passaporto di Essere Umani nasce dai luoghi che noi abitiamo, nel senso che noi lavoriamo nelle zone del carcere, in molte scuole, negli ospedali e tutti i giorni siamo un po' stimolati a metterci in gioco, a ragionare su quali sono le azioni migliori per portare questo concetto di umanità in questi luoghi. Da lì nasce questo stimolo di scrivere otto parole magiche, come la definite le garante, che sono poi anche otto luoghi, otto strade, che ci portano a migliorare e a raccontare anche ai ragazzi come si può diventare degli esseri umani un po' più umani.